Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come attivare o disattivare il microfono della webcam quindi in questo caso è veramente semplicissimo se tu vai in basso a destra su questo simbolo degli altoparlanti tasto destro sopra impostazioni audio scendi fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio ti uscirà così questa schedina su registrazione scendi fino a giù e come puoi vedere questo è il microfono della webcam quindi a me il microfono della webcam dà veramente fastidio perché io sto usando il microfono a parte quindi tasto destro sopra disabilità così facendo hai rimosso il microfono della webcam fai ok chiudi tutto e se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao